Ciao, sono Chiara Benedetti, sono di Roma, ho studiato chimica industriale alla Sapienza e lavoro qui in FAM da circa due anni con il ruolo di ingegnere di processo, quindi mi occupo soprattutto della gestione del reparto elettrodi che consiste nel primo reparto della nostra azienda e ho scelto di lavorare qui in realtà un po' perché è quello per cui ho studiato per tutto il mio corso di laurea un po' in realtà proprio per l'interesse che ho in questo campo perché l'idea di partire dalle materie prime come polveri arrivare fino a un prodotto finito utilizzabile direttamente è veramente qualcosa di fantastico e inoltre soltanto in questa azienda c'è la possibilità di lavorare nel modo più pulito possibile quindi utilizzando semplicemente una base d'acqua magari piuttosto che dei solventi che è sicuramente più pulita Allora, le sfide che principalmente affrontiamo in questo stabilimento di Deverola sono sicuramente quelle di raggiungere gli alti standard di qualità e anche di sicurezza che abbiamo e quelle soprattutto quindi le sfide che affrontiamo sono quelle riguardanti al problem solving che sicuramente in un impianto industriale sono sempre presenti ciò che mi piace è proprio questo, quello di affrontare sfide costantemente tutti i giorni di imparare sempre cose nuove e anche l'ambiente internazionale che si sta creando sempre più attivo, sempre più presente e nel tempo libero principalmente ho un sacco di passioni quindi tanto per iniziare lo sport che sicuramente svuota la mente e aiuta a ricaricare ma anche leggere che siano romanzi, saggi e soprattutto anche delle cose manuali come lavorare a maglia perché appunto mi aiuta nel relax e nel recupero per dare sempre il meglio